Tutti conosciamo la scala Kinsey, quella scala ha 7 punti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 usata anche dai ricercatori per misurare l'orientamento sessuale di una persona per esempio la posizione 0 e la posizione 6 sono quelle dell'esclusività 0 esclusivamente eterosessuale, 6 esclusivamente omosessuale poi abbiamo delle posizioni più intermedie e poi abbiamo la posizione 3 c'è proprio quella in mezzo che dice ugualmente eterosessuale e omosessuale o in alcune scale bisessuale ma chi era Alfred Kinsey? era un biologo e un sessuologo americano che studiò migliaia e migliaia di interviste che ha raccolto nel Kinsey Report e sentiamo le sue conclusioni allora cosa scrive in Sexual Behavior in the Human Male? scrive che i maschi non rappresentano due popolazioni distinte gli eterosessuali e gli omosessuali il mondo non è diviso in pecore e capre non tutte le cose sono bianche e nere è fondamentale nella tassonomia che nella non tutte le cose sono bianche o nere è fondamentale nella tassonomia che la natura raramente ha a che fare con categorie discrete soltanto la mente umana inventa categorie e cerca di forzare i fatti in gabbie separate il mondo vivente è un continuum in ogni suo aspetto prima prenderemo questo a proposito del comportamento sessuale umano prima arriveremo ad una profonda comprensione delle realtà del sesso allora certamente questo è vero Darwin stesso ci ha insegnato che l'apparente grandissima incolmabile diversità delle forme di vita è in realtà il prodotto di piccolissimi cambiamenti graduali e intermedi ma se le cose stanno come dice Kinsey allora vorrei che vi venisse spiegato perché la quasi totalità degli animali è divisa in maschi e femmine perché la totalità degli esseri umani è divisa in maschi e femmine cioè è vero che è la mente umana che crea le categorie ma se le crea le crea per un motivo e questo motivo è suggerito dalla natura ci sono alcuni individui che hanno un cromosoma X e un cromosoma Y che hanno certe caratteristiche fisiche e psicologiche che noi chiamiamo maschi ci sono altri individui che hanno due cromosomi X certe caratteristiche fisiche e psichiche e noi le chiamiamo femmine poi ci sono altri individui e negare la loro esistenza sarebbe ipocrita in cui le cose sono più confuse per esempio ci sono entrambi gli organi genitali ma in stato rudimentale oppure ci sono uomini con un seno molto sviluppato con la ginecomastia ci sono donne con una clitoride molto sviluppata che quasi sembra un pene ci sono donne con molti peli uomini con pochi peli uomini con voci da donne e donne con voci e comportamenti maschili ma questi casi sono l'eccezione e non la regola è molto importante saper distinguere la regola da ciò che si differenzia dalla regola per una certa causa come per esempio per alcune anomalie ormonali ora io mi chiedo dato che abbiamo visto esistono due sessi non è forse logico pensare che ci siano due modi diversi e opposti affinché questi due sessi riproducano loro stessi cioè non è logico ipotizzare che ci sia una pulsione androfilica che cerca il maschio e una pulsione ginefilica che cerca la femmina sappiamo però e spero che lo sappiano tutti che alcuni uomini cercano gli uomini alcune donne cercano le donne ora questo però non ci costringe a modificare niente di quanto detto perché semplicemente gli uomini che cercano altri uomini hanno la pulsione androfilica e le donne che cercano altre donne hanno la pulsione ginefilica ma leggiamo attentamente cosa dice Kinsey lui scrive che il mondo vivente è un continuum in ogni suo aspetto ma poi scrive anche che la natura raramente ha a che fare con categorie distinte e questa è una contraddizione avrebbe dovuto scrivere la natura non ha mai a che fare con categorie distinte comunque non importa andiamo avanti io ho ragioni per credere che anche Kinsey sia caduto nell'errore di cui ho parlato nei video precedenti cioè che abbia frainteso il comportamento con l'orientamento sentite cosa scrive scrive prima prenderemo questo a proposito del comportamento sessuale umano ma che cosa ha a che fare il comportamento con una scala che dovrebbe misurare l'orientamento e infatti il titolo dell'opera di Kinsey è proprio sexual behavior in the human male comportamento Kinsey poi parla delle storie eterosessuali e omosessuali cosa è una storia? è un insieme di esperienze ancora una volta dunque si tratta del comportamento oppure scrive alcuni dei maschi impegnati in un tipo di relazioni in un periodo della vita potrebbero avere l'altro tipo di relazioni in un periodo successivo di cosa stiamo parlando? relazioni fanno parte sempre del comportamento e poi lo dice chiaramente in alcuni predominano le esperienze eterosessuali in altri predominano quelle omosessuali altri ancora hanno avuto più o meno entrambi i tipi di esperienze la scala Kinsey è una scala che parla delle esperienze non parla dell'orientamento parla del comportamento però lui trae delle conclusioni ingiustificate perché dice da tutto ciò dovrebbe essere evidente che non è giustificato riconoscere solo due tipi di individui gli eterosessuali e gli omosessuali secondo lui non si può dividere gli individui in questo modo da tutto ciò risulta ovvio che ogni domanda sul numero di persone eterosessuali nel mondo non può che rimanere senza risposta ma il fatto che moltissime persone non hanno comportamenti esclusivamente omosessuali o esclusivamente eterosessuali non dimostra che non esistano gli omosessuali e gli eterosessuali secondo me queste persone queste due categorie esistono e sono distinte secondo me sono precisamente quantificabili e penso che nella loro vita esse sono libere di scegliere che relazioni avere di sperimentare vari comportamenti sessuali non dimentichiamo mai la frase di Hirschfeld che l'azione non dimostra l'attrazione dunque Kinsey ha ragione è difficile dividere gli individui nettamente per il loro comportamento ma invece secondo me possiamo dividere nettamente gli individui in base all'orientamento Alfred Kinsey dunque dimostrò al mondo specialmente all'America che il comportamento sessuale umano è molto variabile però da questo dedusse ingiustificatamente che anche l'orientamento fosse variabile io sono molto contento perché forse ho rintracciato l'origine della grande confusione di cui è vittima la sessuologia ovvero da questo errore di fondo abbiamo chiarito che Kinsey si riferiva nel suo lavoro al comportamento sessuale eppure il Kinsey Institute scrive nel suo sito ufficiale che la scala Kinsey, la scala Storm e la scala Klein sono tre delle più di duecento scale per misurare e descrivere l'orientamento sessuale poi leggiamo anche nello studio Sexual Orientation Controversy and Science che la rating scale, la scala Kinsey è la più nota misurazione a questionario dell'orientamento sessuale e in Wikipedia la versione inglese della pagina scala Kinsey recita ma invece come è chiaro dai passi che abbiamo letto Kinsey si stava riferendo al comportamento allora se parliamo del comportamento sessuale ha perfettamente senso parlare di un'omosessualità incidentale prevalente, esclusiva ma che senso ha usare questi avverbi per l'orientamento sessuale una persona o è eccitabile dal sesso maschile o non lo è una persona o è eccitabile dal sesso femminile o non lo è io sono convinto e lo so che è una posizione radicale che l'omosessualità sia un either or trait cioè un tratto che o ce l'hai o non ce l'hai secondo me una persona o può essere eccitata dal sesso maschile e quindi è esclusivamente omosessuale o può essere eccitata dal sesso femminile e quindi è eterosessuale o può essere eccitata da tutti e due e quindi è bisessuali ma non esistono secondo me gradazioni intermedie non esistono vie di mezzo non esistono vie di mezzo